Il tifo calcistico era una passione che Nahuel Perez condivideva con suo padre finché un terribile incidente stradale non lo ha strappato alla vita nel 2016. Il ragazzo argentino all'epoca 19enne era un tifoso del San Martín de Tucumán e tornava proprio da una trasferta a seguito della squadra del cuore assieme a tre amici quando perse tragicamente la vita. Una violenta collisione con un camion provocò la morte di tutti e quattro i tifosi. Nahuel aveva ereditato il tifo per il calcio da suo padre una passione che è stata il filo che ha tenuto uniti padre e figlio oltre la morte non solo nei pensieri e nei ricordi ma anche fisicamente. L'uomo si reca sempre sulla tomba per ascoltare assieme la partita del San Martín alla radio. Una storia commovente emersa nei giorni scorsi quando su Facebook è stata pubblicata la foto di questo papà accanto alla tomba del figlio mentre ascoltava la radio la partita della squadra del cuore lasciare andare il suo ragazzo è per lui impossibile.